Pizza Country, cosa è? Pizza Country, Pizza Country noi siamo una pizzeria proprio su ruote e ci proponiamo con il focacciotto, questo è un impasto di pizza a lunga lievitazione cotto nel forno a legna, nel momento in cui viene sfornato possiamo farcirlo con la porchetta di aricia e con altri affettati che abbiamo lì nella vetrina e tutto questo qui fatto al momento, espresso, ecco come vedete steso tutto quanto al momento dai nostri pizzaioli e in più ci proponiamo anche con la pizza fritta Il Santo Burger, cos'è? Allora, il Santo Burger è un progetto che è nato proprio per rispecchiare al meglio il discorso itinerante perché con questo nome riusciamo a nominare i panini a seconda del posto quindi variamo un po' col nome dei santi a seconda dei paesi, delle città che visitiamo quindi con i santi più rappresentativi per le città e lì inseriamo dei ingredienti, prodotti tipici a seconda appunto delle zone che noi andiamo a visitare Il panino più richiesto? Ad oggi sicuramente il San Massimo, quindi il panino con la salsiccia al tartufo la riduzione di Montepulciano d'Abruzzo è quello che ha riscosso fino ad ora più successo Cosa mangiamo di buono oggi? Una pizza fritta, bufalotta Siamo in dieta? Sì, e beh insomma, non propriamente però diciamo che quando fanno questi eventi non si può mancare parcheggiare un secondo la dieta Che valore ha questo evento per l'Aquila? Secondo me è importantissimo visto che comunque è una città che sta cercando di rilanciarsi al meglio delle proprie possibilità e quindi la città vedo che sta rispondendo quindi è importantissimo Domani l'Aquila Calcio gioca una partita importante per off e lei è qui per? Beh innanzitutto sono quelle manifestazioni che fanno bene all'Aquila e quindi è un piacere esserci da Aquilano e il piacere di trovare i prodotti tipici anche della mia terra c'è un piccolo stand pugliese che porta le bombette quindi mi sento un po' più vicino a casa una passeggiata anche per riposare un pochino insomma per staccare la testa E domani concentrarsi alla partita? Assolutamente, pronti a partire oggi pomeriggio per il ritiro grazie anche al contributo dei tifosi i ragazzi hanno fatto un ottimo allenamento concentrati, pronti per insomma l'obiettivo è andare lì e fare bene per centrare poi la finale E questo evento sia di buon ospicio? Assolutamente, sia per noi ma soprattutto anche per l'Aquila e per i cittadini dell'Aquila insomma